La legge è una legge della Lega, buona nelle intenzioni ma monca nei risultati. In realtà c'era già una precedente legge, la 57 del 2017, che prevedeva che gli studenti tra gli 11 e i 26 anni avessero un rimborso sull'abbonamento tuo o di altri gestori del 10% in alcune aree interne già individuate e in aree che erano già individuate in tre precedenti delibere. Con questa legge si spezzetta ulteriormente la materia introducendo una nuova legge e non una modifica alla legge regionale 57 ma soprattutto si utilizza un criterio che può rilevarsi paradossale. Perché? Perché per la prima volta vengono ricompresi tutti i comuni sotto ai 2000 abitanti. Questo però può comportare che alcuni comuni che in realtà hanno più di 2000 abitanti e hanno un'altezza superiore ad altri in realtà non vengono ricompresi. Penso per esempio a Torre dei Passeri e a Cepagatti che hanno altezze diverse Torre dei Passeri non viene ricompresa e invece Cepagatti verrà ricompresa. Per questo il centro-sinistra presenterà due emendamenti in consiglio e in commissione. Il primo è quello di far rilevare le distanze tra la residenza dello studente e la scuola in modo da evitare meccanismi paradossali. E il secondo è quello invece di elevare ulteriormente il limite dei 2000 abitanti fino a portarlo a 5000. In questo modo, leggo per correttezza e per non lasciare fuori nessun comune, verrebbero ricompresi per esempio i comuni di Alanno, di Rosciano, di Moscufo, di Torre dei Passeri, di Cappelle sul Tavolo che invece prima non erano ricompresi, ma ancora Santa Maria in Baro, Pollutri, Villamagna, Rocca San Giovanni, Controguerra, Sant'Eusagno del Sangro, Mossa Grogna, Crecchio, Torino di Sangro, Casale Incontrada, Altino, Morrodoro, Colonnella, Orsonia, Tollo, Ripa Teatina, Paglieta, Torre Vecchia Teatina e Castelfrentano Emilianico. Tutti questi comuni che invece non erano ricompresi con il limite degli abitanti a 5000 verrebbero invece ricompresi. e sono comuni che in alcuni casi addirittura si trovano a maggior distanza rispetto ad altri che già sono compresi nella legge 57.